Benvenuti nel canale televisivo sportivo. Oggi con le ultime notizie come Premier League, i tifosi del Tottenham sono tutti pazzi per Dejan Kulosevski. Nel frattempo, però, sui social network parte l'attacco di alcuni sostenitori della Juventus nei confronti dell'allenatore colpevole. Il campionato di Premier League è partito alla grande. Le Big non hanno mancato l'appuntamento con la vittoria, in attesa delle altre che giocheranno questa sera, e le loro prestazioni hanno convinto sin da subito i propri sostenitori. Tra questi spunta soprattutto il Tottenham allenato da Antonio Conte che si è sbarazzato, in casa, del povero Southenton che è tornato a casa con la consapevolezza di aver incassato ben quattro reti, e segnato solamente uno. Mattatore dell'incontro proprio il calciatore che vedete inquadrato in foto e che ha fatto impazzire di gioia i propri sostenitori, Dejan Kulosevski. Il nazionale svedese era assolutamente imprendibile. I difensori avversari se la sono vista davvero brutta contro di lui, specialmente nell'uno contro uno vinto sempre dall'ex Parma. Per lui i numeri parlano chiaro, un gol ed un assist. A cinque minuti dal termine esce dal terreno di gioco per fare posto a Lucas Moura, ovazione meritatissima per lui. Un acquisto che, a gennaio, ha fatto storcere il naso ad un bel po' di sostenitori della squadra inglese che non erano per nulla convinti del suo arrivo dalla Juventus. Dopo solamente pochissime partite, però, si sono ricreduti. Tanto è vero che in molti hanno ricordato le sue prestazioni proprio come quelle che svolgeva a Parma e che non ha potuto fare nella Juventus. Ed è per questo motivo che sui social network alcuni tifosi bianconeri hanno attaccato il tecnico che non lo ha saputo valorizzare. Già, il tecnico di Flero è salito in tendenza su Twitter dopo che alcuni tifosi della vecchia signora gli hanno dato moltissime colpe. Motivo? Quello di non aver valorizzato il calciatore nella migliore maniera possibile. Anche se ci sono stati alcuni che hanno ricordato un'altra cosa, mezza stagione è stato guidato da Massimiliano Allegri che lo ha utilizzato con il contagoce. Queste sono alcune delle farsi che la nostra redazione ha deciso di postare per fare capire l'umore dei sostenitori juventini dopo le prestazioni del centrocampista, attaccante, da quando si è trasferito in Inghilterra. Non tutte a favore dell'ex campione del mondo.Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.